Questa settimana le ha indicato come siete usciti anche mentalmente, visto che ha parlato con la squadra, dalla prestazione o non prestazione di Torino? La settimana la affrontiamo come si deve, con lavoro e impegno, cercare di migliorare, pensando sempre alla prossima partita che è contro la Sampdoria. Le reazioni invece alla partita di Torino? Con lavoro, impegno e responsabilità, è quello che abbiamo fatto questa settimana come tutte le altre. Nella sua idea di calcio vede tre centrocampisti con Medel, Scout e Miminguez insieme dal primo minuto? Sì, vedo tutti i centrocampisti che abbiamo, vedo e so e sono convinto che possono giocare insieme. Poi dipenderà sempre dal momento loro, la partita che andremo ad affrontare, l'avversario che andremo ad affrontare, però sì, questi tre giocatori possono giocare insieme sicuro. E a livello mentale come stanno Soriano, Sansone e Orsolini? Abbiamo visti poco lucidi ultimamente. Stanno bene, sono tutti e tre sotto la mia responsabilità e dove io devo aiutare al massimo perché loro possono esprimersi al meglio dentro al collettivo.